Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 17 febbraio, dubita su Riccardo, Manuela Soffre. L'appuntamento con un posto al sole è confermato nella settimana che va dal 13 al 17 febbraio 2023. Con le nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap opera rivelano che per Rossella e Riccardo proseguirà il forte momento di crisi che limiterà ad orissima prova. Occhi puntati anche sul processo contro Lello valsano mentre Manuela si ritroverà a soffrire per la scelta fatta da Nico. Nel dettaglio, le anticipazioni dei nuovi episodi di un posto al sole fino al 17 febbraio 2023 rivelano che tra Rossella e Riccardo la situazione non sarà affatto delle migliori. La ragazza continuerà ad avere molti dubbi sul conto del medico e, per tale motivo, Crovi si impegnerà con tutte le sue forze per cercare di riconquistare la fiducia della ragazza e far sì che tra di loro possa tornare ancora una volta il sereno. Per fare in modo che Rossella possa finalmente tornare a fidarsi di lui, Riccardo sarà pronto anche a superare le incomprensioni che ci sono state con Ornella e quindi a mettere una pietra sopra a quanto è successo. Come si evolverà la situazione? Rossella tornerà a fidarsi del dottor Crovi, mettendo da parte i dubbi e le incomprensioni dell'ultimo periodo. E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di un posto al sole previste nella settimana dal 13 al 17 febbraio 2023. Rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Manuela. La ragazza si ritroverà messa in difficoltà dalla scelta di Nico che, di punto in bianco, ha deciso di allontanarla dalla sua vita. Per tale motivo, quindi, Manuela non potrà fare a meno di soffrire e di sperarsi per questa separazione forzata dal giovane avvocato. Al suo fianco ci sarà Manuela, riuscirà quest'ultima a fare in modo che sua sorella dimentichi definitivamente Nico. Occhi puntati anche su Raffaele e Viola, le nuove anticipazioni di un posto al sole previste fino al 17 febbraio 2023. Rivelano che i due saranno pronti ad offrire la loro testimonianza nel processo contro l'ello o valsano. Spazio anche vicende di Clara, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione. La donna si ritroverà costretta a dover tornare da sola nel suo quartiere natale. Una decisione che non passerà inosservata e finirà per destare la preoccupazione di Alberto Palladini, l'uomo. Infatti, non sarà affatto tranquillo e sereno. Intanto Silvia potrà tirare un sospiro di sollievo dopo gli ultimi guai che ha dovuto affrontare in merito al suo Café Vulcano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.